La Quaresima è il tempo propizio per fare spazio alla parola di Dio, è il tempo per spegnere la televisione e aprire la Bibbia, è il tempo per staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo. Quando ero bambino non c'era la televisione, ma c'era l'abitudine di non ascoltare la radio, è Quaresima ed è certo, è il tempo per rinunciare, per staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo, è il tempo per rinunciare a parole inutili, a chiacchiere, e dare del tu al Signore, è il tempo per parlare e dare del tu al Signore, è il tempo per dedicarsi a una santa ecologia del cuore, fare pulizia lì. Viviamo in un ambiente inquinato da troppa violenza verbale, da tante parole offensive e nocive che la Rete amplifica. Grazie. Grazie.